Ciao, sono Paolo e sono un allunno della Residenza Universitaria Biomedica. Ho scelto la Residenza perché innanzitutto è un ottimo luogo per studiare e poi secondariamente anche perché ci offre la possibilità di condividere ogni singolo momento della giornata con gli altri. Aiuta molto quindi a far vivere in modo sereno la vita universitaria. Posso dire di aver creato lì dopo ormai 4 anni la mia seconda famiglia. La Residenza ci offre anche l'opportunità di svolgere delle ore e dei corsi extracurricolari. A mio avviso molto utili sia nella vita in generale ma anche nella vita universitaria e magari non domani in un mondo lavorativo. Ciao, sono Paola, studio Biologia e sono un'alunna della Residenza Universitaria Biomedica di Pavia. Tra i vari motivi per cui ho scelto la Residenza sicuramente c'è il fatto che metta a disposizione delle borse di studio a copertura totale dei costi di soggiorno tale per cui ho potuto svolgere tutto il mio percorso di laurea magistrale soggiornando gratuitamente presso la Residenza stessa. Quindi la consiglio a tutti ed è un'ottima esperienza di crescita personale e formativa. Ciao. Ciao, sono Elena. Sono iscritta alla Facoltà di Biologia e sono alunna della Residenza Universitaria Biomedica. Ho scelto la Residenza per le opportunità che offre per il futuro, per le numerose attività di formazione, per lo sport e il tempo libero, ma non solo. Presso la Residenza, infatti, ho potuto trovare una seconda famiglia. Qui ognuno di noi ha la sua storia da raccontare. Veniamo da paesi e città diverse, parliamo anche lingue diverse e siamo iscritti a facoltà differenti, ma ogni giorno le nostre strade si incrociano. Queste amicizie sono speciali e sincere e durano anche dopo il percorso universitario. Segui anche tu la Residenza Universitaria Biomedica. Grazie. Grazie. Ciao, mi chiamo Randa Yacoub e I'm from Lebanon. I'm a master student and I'm currently living at Residenza Biomedica. I chose this facility because of its heterogeneous environment. You can literally find people from all around the world. And it's a pleasure to be here and to meet people from different ethnicities and different cultural backgrounds. Honestly, like, I couldn't be happier. I'm a master student and I'm a master student and I'm a master student. I'm a master student and 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 I'm a master student